Di solito il periodo estivo è visto come una risorsa per le regioni, le varie cittadine, per i borghi, perché arrivano i turisti. Ma in Sicilia c'è un grosso problema. Questo problema è stato sollevato proprio da Ambi, dove ci troviamo oggi e incontriamo il grande Presidente. Perché? Perché adesso ci spiega perché Ambi ha dei dubbi sul fatto che dei turisti possono arrivare in Sicilia, Presidente. Ma più che dei dubbi abbiamo la certezza purtroppo che i cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova il Paese anche rispetto al ricevimento di turisti nei nostri bellissimi posti che abbiamo in tutto il Paese. Purtroppo l'andamento climatico ha fatto sì che nel mezzociorno del nostro Paese sia piovuto quasi il 90% di piogge in meno rispetto a un anno normale, creando dei notevoli problemi rispetto alla quantità di acqua che siamo riusciti e sono riusciti a trattenere negli invasi. Un po' perché purtroppo la manutenzione ordinaria di questi invasi negli anni non c'è stata come dovrebbe essere stata fatta. Abbiamo avuto la mancanza di alcune infrastrutture e questo naturalmente ci fa pensare che purtroppo con la mancanza di acqua si rischia veramente di mettere in crisi non solo l'agricoltura ma l'intero comparto turistico di alcune regioni del nostro mezzogiorno d'Italia. Proprio per questo che dobbiamo muoverci in concertazione e soprattutto dobbiamo fare un piano di manutenzione veloce per mettere in sicurezza questi invasi per poter trattenere quell'acqua che quando sono stati costruiti purtroppo si immaginava già che sarebbe mancata ma che purtroppo per l'incuria dell'uomo oggi noi stiamo subendo questi disastri. Sì infatti voi avete sempre parlato del problema della Sicilia che questi vasi sono ricoperti di sabbia di non so di quant'altro e non c'è acqua e poi abbiamo visto delle immagini telegiornali cioè devono passare le autobotti per distribuire l'acqua. Sì adesso noi stiamo parlando ci stiamo concentrando sulla Sicilia perché il 2024 purtroppo sta mettendo in dura difficoltà quella regione come anche la Sardegna in alcune aree della Sardegna ma io direi tutto il mezzogiorno d'Italia. Le autobotti però purtroppo dobbiamo renderci conto che le vediamo ogni qualvolta in tutto il paese abbiamo delle crisi idriche e questo dimostra quanto il paese non sia pronto a vincere la sfida dei cambiamenti climatici non solo per quanto riguarda le infrastrutture ma proprio per la gestione del territorio intero. Ecco in questo noi naturalmente diamo la nostra disponibilità per mettere a disposizione del paese quel patrimonio progettuale, quel patrimonio infrastrutturale che possiamo creare e che vogliamo creare sul tutto il territorio nazionale perché c'è la necessità di migliorare quelle che sono le infrastrutture per aumentare la capacità di invaso per trattenerla quando piove e distribuirla quando ne abbiamo bisogno. Ecco come hanno risposto, come rispondono le varie regioni? Le regioni naturalmente purtroppo si trovano a dare delle risposte sempre in un momento emergenziale e quindi in un momento emergenziale ci si trova sempre in difficoltà. Quello che dobbiamo cambiare è la cultura del nostro paese, dobbiamo pensare a immaginare un paese che previene questi fenomeni mettendo in campo tutte quelle che sono le professionalità e soprattutto quelle che sono le conoscenze per cercare che questo non avvenga. Una risposta è arrivata, nei giorni scorsi il governo ha iniziato un percorso di programmazione importante e per noi questo è un messaggio importante che il governo vuol dare al paese rispetto a un piano nazionale idrico che verrà finanziato nei prossimi dieci anni e che mette a disposizione una somma importante di denaro per fare quelle opere. E' chiaro che si partirà, non è sicuramente una soluzione definitiva, ma intanto si inizia a ragionare, si inizia a parlare con dei finanziamenti concreti che metteranno in sicurezza almeno quelle parti del paese dove oggi purtroppo abbiamo delle forti criticità. Lei ha avuto un'audizione in Senato, perché? Di cosa avete parlato? Siamo andati a parlare di quello che è il nostro programma e di quelle che sono le nostre esigenze rispetto all'infrastrutturale del paese. Noi dobbiamo vincere anche qui le paure e i dubbi che il nostro paese ha nel mettere in mano un piano invasi che deve vedere il nostro paese protagonista nei prossimi anni, perché altrimenti subiremo sempre di più le crisi climatici. Quel piano invasi che noi da anni che difendiamo lo vogliamo fare in sintonia col paese, lo vogliamo fare in sintonia con l'ambiente e soprattutto un piano invasi che mette nelle condizioni l'opera di pagarsi e soprattutto di dare un contributo anche economico al nostro territorio producendo energia elettrica da fonti rinnovabili come l'idroelettrico, ma anche i pannelli fotovoltaici galleggianti, tutelando quello che è l'ambiente circostante, cercando di utilizzare il meno possibile il cemento, ma utilizzare delle terre e delle rocce locali valorizzando insomma tutto quello che è il territorio circostante, un invaso, perché se un tempo un invaso era visto un'opera grigia oggi un invaso lo possiamo vedere come un'opera integrata dal punto di vista ambientale che diventa anche un fenomeno di fruibilità, di facilitatore di fruibilità di quel pezzo di territorio dove viene fatta opera riducendo quello che è l'impatto negativo. Certo che voi avete un bel ruolo voi di Ambi, comunque volevo dire oggi facciamo un'intervista oggi che è la giornata dell'ambiente poi ovvio la vedrete anche nei giorni successivi, ecco a questo punto di vista Ambi come si colloca? Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente ma Ambi ogni giorno festeggia l'ambiente con il loro comportamento noi stiamo cercando anche qui di ragionare, di cercare di mandare un messaggio alla collettività, al nostro paese culturale rispetto all'utilizzo dell'acqua in rigua perché l'acqua in rigua è un vero tutelatore dell'ambiente è un vero fenomeno che ci sta mettendo nelle condizioni di poter dire che abbiamo questo ambiente che abbiamo questa biodiversità agricola e ambientale grazie appunto a un'acqua che circola all'interno dei nostri canali abbiamo dei fenomeni che stiamo cercando anche di far coniugare quella che è la manutenzione rispetto alla tutela dell'ambiente ad esempio in Veneto abbiamo portato avanti un protocollo che chiamiamo manutenzione gentile perché riteniamo che i corsi d'acqua non debbano essere abbandonati ma devono essere gestiti in funzione anche della tutela dell'ambiente tutto questo si può fare perché siamo consapevoli che è uno sforzo importante ma lo dobbiamo fare perché dobbiamo volere bene la nostra casa comune e soprattutto fare in modo che la casa comune diventi e rimanga anche un patrimonio per quelle generazioni che vengono dopo di noi abbiamo poi tantissimi progetti ad esempio tra la Toscana e l'Emilia Romagna rispetto al riuso e alla raccolta di plastica dell'ambiente che purtroppo è un grande tema e che troppo spesso viene rinchiuso in alcune giornate di raccolta ma invece dobbiamo far comprendere ai cittadini che non dobbiamo buttare la plastica nell'ambiente perché quella plastica rimane per millenni, rimane per anni e soprattutto va a finire in mare allora noi cerchiamo anche qui di fare, cercare anche qui di non dico insegnare ma cercare di mettere all'interno delle nuove generazioni la consapevolezza che dai loro comportamenti dipende anche la qualità dell'ambiente non solo stiamo anche facendo uno sforzo importante nel risparmiare naturalmente la risorsa idrica utilizzando sì delle plastiche ma delle plastiche non monouso, delle plastiche riutilizzabili e soprattutto delle plastiche biodegradabili che ci permetterebbero anche qua di ridurre tutto il tema dell'uso della plastica in agricoltura che è un altro tema importante perché dobbiamo essere consapevoli che se da un lato abbiamo il risparmio idrico dall'altro utilizziamo degli strumenti che immettono della plastica se riusciamo anche qua a dare una risposta con le multinazionali, con dei soggetti che producono questi prodotti importanti rispetto all'utilizzo di plastica biodegradabile crediamo anche qui di fare un servizio importante non solo all'agricoltura riducendone i costi e riducendone la problematica ambientale ma anche alla collettività e al nostro paese Allora Presidente io le devo passare i complimenti degli amici telespettatori quando vedono queste interviste perché in effetti sono lezioni di civiltà sono invite a vivere meglio e a tutelare il nostro ambiente perché altrimenti lo stiamo distruggendo abbiamo visto la risposta poi che c'è stata Presidente io la saluto grazie, grazie per quello che fate grazie a voi per averci seguito grazie a voi